Sono stato a pregare su quella tomba, lui a fianco della sua mamma, ma penso anche agli altri bambini che erano indietro nell'auto, che hanno visto quello sparare, quel fuoco, quelle grida, quel dolore. Dobbiamo dire loro che li vogliamo bene. La legge Agnesi è il nome di un popolo, non di un clan di mafia. È un nome di un popolo, quello che voi portate, di un popolo meraviglioso e generoso. E nessuno approfitti per attaccare altre etichette. Don Luigi Ciotti getta acqua sul fuoco della polemica per chi ha ritenuto di non partecipare al corteo di Libera. Oltre che commuoverci, dobbiamo muoverci, ha detto il sacerdote, fare i cittadini ogni giorno dell'anno. La nostra manifestazione non dà etichette mafiose a questa terra, è solo stimolo per trovare la forza di rivoluzionare e impegnare le nostre coscienze. Al corteo hanno preso parte studenti, associazioni, sindacati. In testa i gonfaloni dei comuni limitrofi e di loro sindaci, i dirigenti scolastici, i rappresentanti della regione. Dalla scuola Rodari a Piazza Falcone e Borsellino, passando per il centro del paese. Per il prossimo anno scolastico, ha detto il dirigente della scuola Rodari, Tito Anzolin, iscriveremo virtualmente il piccolo domenico al nostro istituto.